Eppure ci avevano detto che le tasse erano scese, ma quando si tratta di valutare il costo dell'inutile, dello smaltimento di immondizie che per di più creano energie, la partita assume un sapore diverso. I rifiuti si pagano a peso d'oro e lo dice Conti alla mano la CGA di Mestre. La diminuzione dei rifiuti è stata costante dal 2007 ad oggi, sia per le imprese che per le famiglie, ma i prezzi continuano a salire. Dal 2010 al 2015 c'è stato un aumento per un nucleo familiare di 4 persone, addirittura del 25%. Ancora peggio per le imprese e ristoratori, perché nonostante i cali di produzione e presenze ai tavoli imbanditi, pizzerie o pub con superficie di 200 metri quadri hanno subito un incremento del prelevo del 47,4%, pari in soldoni a un aumento di 1.414 euro annui. Cambia il nome della tassa da Tarsu a Tia, passando per Tares e ora Tari. Quelle locali sono aumentate, questo tipo di servizio in 5 anni è aumentato in maniera esponenziale per famiglie e per attività imprenditoriali. Si parla tanto di tasse locali, in 5 anni questa tassa ha cambiato nome 4 volte, ma quello che non cambia sono le cifre che sono in costante aumento. Effetto identico dunque, eppure si basa su un principio giusto. Chi inquina paga, che è un sistema sostanzialmente anche corretto. Quello che non è corretto è che venga pagato con le tasche dei cittadini l'inefficienza delle aziende che si occupano di questi servizi. Che è un sistema sostanzialmente anche per la tassa da Tarsu a 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 Tarsu